Ciao bambine e bambine, come va? Anch'io sto a casa come voi e in questi giorni mi invento tantissime cose per divertirmi sempre di più. Gioco, disegno, leggo, fantastico anche un po'. E fantasticando mi è venuta in mente un'idea, visto che ormai tutti e tutte conosciamo questo virus che ci fa stare dentro casa per un po' di giorni. Sicuramente l'avrete anche già disegnato. Quello che vi propongo io è di inventare, tutti e tutte lo faccio anch'io, un fumetto, quindi una vignetta nel quale possiamo diventare dei supereroi, dei supereroine e sconfiggere questo virus. Possiamo farlo naturalmente catturandolo, possiamo farlo anche inventandoci una formula magica per farlo diventare buono, per esempio. Oppure, qualsiasi cosa, la nostra fantasia ci fa venire in mente per sconfiggere. Possiamo disegnarlo, colorarlo e fare delle belle vignette. Se vi va, questa è una delle attività che io farò in questi giorni e la propongo anche a voi, quindi. L'attività si chiama Sconfiggi il virus. Quindi buon divertimento nel disegnare e nel colorare e vediamo un po' cosa esce fuori. Ciao ciao!